Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento L'Organizzazione del Sistema darà voce agli infermieri, una categoria sempre più strategica tra le professionalità sanitarie che costituisce oltre il 40% della forza lavoro in carico all'azienda. L'esame del documento è assegnato alla quarta commissione permanente. Alle tornate di lavori d'aula già previste per il mese di ottobre sono state aggiunte dai capigruppo due sedute. Al mattino del 18 ottobre prossimo l'Assemblea Legislativa si occuperà delle comunicazioni chieste alla Giunta dalle opposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. La convocazione del pomeriggio riguarderà invece la trattazione del disegno di legge che reca misure straordinarie anticrisi per famiglie e imprese, per il quale, vista l'urgenza, lo stesso proponente presidente della Giunta Fugatti aveva chiesto la seduta straordinaria. Si è svolto a Trento, presso la sala di rappresentanza di Palazzo Geremia, il convegno dedicato principalmente ad attrici ed attori di lavoro che indaga i profili psicologici, giuridici ed organizzativi del mobbing sul posto di lavoro. L'organizzazione a cura dei consiglieri di parità della provincia di Trento e di Bolzano, Matteo Borzaga e Michela Morandini, e delle commissioni pari opportunità delle due province, ha fornito una serie di informazioni su come riconoscere il mobbing all'interno delle imprese e su cosa fare dal punto di vista organizzativo a tutela di lavoratrici e lavoratori, oltre che sulle responsabilità dei datori di lavoro. L'iniziativa che si è svolta in due edizioni su Bolzano e su Trento ha proposto anche uno sguardo di genere sul fenomeno del mobbing.